ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale quindi senza perdere tempo visto che ci sono anche delle novità sul prossimo aggiornamento di gt online da dove questo aggiornamento settimanale non scade giovedì prossimo ma scadrà direttamente martedì 12 dicembre che coincide appunto con la data di uscita del prossimo aggiornamento come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale visto che molti di voi guardano i video senza essere iscritti ragazzi a questo punto iscrivetevi tanto appena esce una notizia vi faccio subito il video quindi mi raccomando attivate le notifiche e lasciate mi piace quindi auto del podio del casino abbiamo la Dinka Sugoi che è questo veicolo qua potete vincerlo come al solito facendo lo spin gratuito giornaliero oppure semplicemente con i glitch della ruota della fortuna infinita che trovate sul canale in seguito abbiamo la Dinka Postlude Coupé sul veicolo dell'autoraduno di Los Santos dovete arrivare tra i primi due per quattro giorni di fila nelle gare clandestine dell'autoraduno per vincere questo veicolo in seguito da Simeon abbiamo la Penod La Curose la Bravado Buffalo EVX la NIS 300R la Inventaro Coquette D10 e la Grotti Visione sono sempre questi cinque veicoli che potete comprare con uno sconto da Simeon e provare per cinque minuti per vedere se vale la pena comprarli o meno e in seguito da Luxury Autos che sarebbe il appunto concessionario in centro città trovate appunto la Benefactor LM87 e la Overflow Entity MT che in questo caso sono due veicoli che potete comprare scontati ma che non potete provare come al solito. Quanto riguarda gli sconti invece abbiamo il 20% sulla Bravado Buffalo EVX come vedete questo veicolo qua poi abbiamo un 30% di sconto su questo aereo il Mammoth Streamer 216 poi abbiamo sempre il 30% sulla Benefactor LM87 abbiamo il 30% anche sulla Grotti Visione che è il veicolo qui che vedete adesso che sarebbe questa Super poi abbiamo la NIS 300R scontata sempre del 30% e la Principe Devastate come vedete altro veicolo Super scontato sempre del 30% su Legendary Motorsport in seguito altro veicolo scontato è la Inventaro Coquette di 10 con il 40% di sconto e la Enus Stafford con il 40% di sconto poi ultimo veicolo abbiamo la lampa di Viserys che è sempre scontata del 40% e poi ultimo veicolo sempre con il 40% è la Coil Cyclone che è quest'auto qui che vedete che secondo me è un buon veicolo comunque sempre scontato del 40% quindi questi qua sono tutti quanti i veicoli che troverete scontati su GTA Online fino a martedì 12 dicembre. Adesso passando agli sconti sui business abbiamo l'Eclipse Boulevard sarebbe il garage da 50 posti scontato del 30% è comunque quello lì che vedete sulla mappa per acquistarlo per chi non lo sapesse basta andare semplicemente sulla lista proprietà e appunto andare dove si comprano gli appartamenti potete comprarne solamente uno quindi dopo che l'avete comprato non vi uscirà più lì. In seguito altro sconto ce l'abbiamo sul terminale operativo dell'Avenger se avete già l'Avenger potete entrare e acquistare il terminale operativo in alternativa potete andare sul sito di Warstock e comprarlo il terminale operativo vi dà accesso alle praticamente missioni del progetto Overflow che hanno aggiunto con l'ultimo DLC e altre missioni che vi fanno fare soldi. Per quanto riguarda altro business sempre comunque abbiamo l'Hangar con in questo caso il 40% di sconto con anche le relative modifiche quindi andando a comprare un Hangar e modificandolo al massimo appunto avrete il 40% di sconto del prezzo totale quindi come vedete risparmierete un sacco ed acquistare l'Hangar se non ce l'avete ragazzi sì perché comunque è un ottimo business che hanno aggiornato quindi secondo me ci sta tranquillamente da comprare è diventato praticamente uno dei migliori. In seguito per quanto riguarda i soldi bonus questa settimana soldi ed RP doppi sul progetto Overflow come vedete questo progetto qua sarebbero queste 5 missioni che hanno giunto con il DLC insomma con l'ultimo DLC e sostanzialmente sono missioni che fate con questa compagnia contro la Merry Weather praticamente io non le ho giocate tutte personalmente non mi hanno fatto impazzire le ho giocate quasi tutte sull'altro profilo però vabbè e poi abbiamo la modalità Sumo Remix come modalità competizione che dà i soldi e gli RP doppi e poi altra cosa in conclusione giocando questa settimana semplicemente accedendo al gioco per una mezz'oretta praticamente vi ritroverete gratis la livrea galassia per l'Avenger. Siamo ora del DLC visto che appunto è confermato oramai che il 12 dicembre uscirà il nuovo aggiornamento di GTA Online ovviamente ragazzi saremo in live salvo imprevisti che ci potrebbero essere ma spero di no visto che stiamo insomma alla fine sarà probabilmente uno degli ultimi DLC quindi godiamocelo vi aspetto in live trovate in descrizione il pro memoria lo impostate insomma quando inizia la live ve lo ricorda e ovviamente lasciate mi piace già che ci siete e questo cosa ci dice riguardo all'aggiornamento e soprattutto a GTA 6 che praticamente Rockstar si è tenuta questa settimana e mezzo per ovviamente l'annuncio del nuovo DLC di GTA Online visto che non ne sappiamo assolutamente nulla il trailer di GTA 6 è un possibile insomma post pre trailer di GTA 6 che magari dicono tenetevi pronti x giorno perché uscirà il trailer di GTA 6 io non so se adesso volevo aggiungere una cosa condividerla con voi insomma non so se vi ricordate quella maglietta che hanno regalato con la scritta One Day World Reveal All cioè un giorno riveleremo tutto ci stavo ripensando e questa insomma frase nasconde anche una specie di easter egg perché se ci pensate One Day può essere anche tradotto anche se in maniera errata come giorno 1 diciamo sono quegli easter egg un po' strani che fa Rockstar Games ce la vedo tranquillamente come cosa e il giorno uno ragazzi guarda caso è il primo dicembre e tutto questo era uscito ovviamente prima dell'annuncio ufficiale di Rockstar dell'ILC insomma dicembre quindi non dico che un trailer potrebbe uscire il primo dicembre anche se è plausibile visto che effettivamente sono 25 anni dalla creazione di Rockstar Games da quando hanno registrato il market eccetera eccetera ho già fatto il video però comunque magari potrebbero fare un countdown oppure dire tenetevi pronti giorno X perché uscirà il trailer quindi il trailer GTA 6 uscirà sicuramente assolutamente prima dell'11 dicembre quindi dal primo all'11 dicembre abbiamo questi 10 giorni di agonia ad aspettare ma secondo me già nella prima settimana di dicembre avremo tutto quanto pronto ovviamente troverete tutto sul canale non vi rubo altro tempo vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video